Assessore Sclocco, oggi importante incontro in Camera di Commercio a Pescara per parlare di imprenditoria al femminile, di quello che la Regione può fare anche a livello di fondi. Sì, sono davvero felice di essere qui. Il CIF della Camera di Commercio di Pescara ha seriamente preso in considerazione l'invito che la Regione ha fatto, cioè di scrivere insieme a noi il POR FSE 2014-2020. Hanno mandato un documento interessante, un documento ben studiato e specifico. Si parla di imprenditoria femminile che rappresenta in Abruzzo una risposta al bisogno di lavoro delle donne. Non è un caso che il 70% per esempio del microcredito è stato assegnato ad imprese femminili. L'impresa è una risposta al bisogno di lavoro femminile in Abruzzo, ma si parla anche di conciliazione. Conciliazione dei tempi, conciliazione dei tempi lavorativi, dei tempi familiari. Quindi sono temi complessi, sono temi che sono già tutti scritti nel POR FSE. Un incontro profigo da questo punto di vista? Certo, l'assessore si è messo a disposizione per recepire le nostre richieste. Noi abbiamo chiesto una programmazione dei bandi che rispetti una tempistica certa. La possibilità per le imprenditrici e gli aspiranti imprenditrici di avere fondi che riescano non soltanto a finanziare l'acquisto di beni, ma anche a professionalizzare meglio le nostre imprenditrici che si trovano a lavorare su un territorio comunque complesso. Grazie. Grazie.